Ha davvero senso studiare solo 10 minuti al giorno circa? Oggi voglio rispondere a questa domanda che da un lato può sembrare avere una risposta immediata ovviamente no, 10 minuti non si può fare nulla ma in realtà se andiamo a modificare ovviamente questa strategia rendendola molto più completa e quindi intendendo questi 10 minuti in modo un po' diverso e ti farò capire qual è sicuramente puoi ottenere dei discreti risultati in ogni caso prima di parlare di questo, dell'argomento, del video di oggi ti ricordo che attraverso il link in descrizione puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari è un corso in cui troverai spiegazioni pratiche, teoriche, contenuti scaricabili, istruzioni e tanto altro per studiare meglio e in metà del tempo comunque per quello che riguarda invece il video di oggi vediamo la sigla e poi iniziamo a parlare di questo studio in soli 10 minuti al giorno è davvero possibile oppure no? quindi la domanda del video di oggi è 10 minuti possono bastare per studiare bene? ovviamente si parla di 10 minuti al giorno la risposta che voglio darti sarà molto chiara, sintetica e breve perché voglio dedicare la maggior parte del video di oggi su una strategia efficace per studiare poco ma comunque ottenere un risultato nettamente migliore di quello che puoi raggiungere studiando solo 10 minuti al giorno infatti puoi studiare 10 minuti al giorno solo e soltanto quando non hai nessuna alternativa nel senso che puoi studiare 10 minuti al giorno quando o dedichi questo tempo seppur ristrettissimo o praticamente non puoi fare niente quindi meglio di niente 10 minuti comunque possono darti un minimo di aiuto ma si parla veramente di pochissimo in tutti gli altri casi studiare 10 minuti al giorno non è assolutamente sufficiente per studiare bene ovviamente se il tuo obiettivo è quello di studiare bene e quindi ha senso fare questo discorso quindi la risposta è stata rapida e veloce perché non c'è bisogno di girare attorno però quello che voglio fare come ti dicevo prima è proporti una strategia questa strategia che dovresti provare perché è abbastanza semplice ruota sempre alla questione dei 10 minuti e adesso vedrai in che senso devi studiare per un'ora quindi non ti sto chiedendo di perdere 10 ore di studi al giorno già studi non 10 minuti ovviamente ma anche un'ora è molto molto meglio è molto più efficace come tempo soprattutto se uno studio è fatto bene quindi uno studio di qualità in cosa consiste questa strategia? allora questo che vedi qui è una forma molto semplificata di un orologio per farti capire che il primo step da compiere è quello nei primi 20 minuti quindi 10 per 2 nei primi 20 minuti di studiare inizia a studiare con la massima concentrazione non ti sto chiedendo di studiare per troppo tempo appena hai completato questi primi 20 minuti di studio concentrato senza distrazioni puoi dedicare i 10 minuti a seguire ad una pausa ecco che torna la questione dei 10 minuti quindi comunque stiamo considerando queste tempistiche ovviamente in un'ora è molto più realistico riuscirò a ottenere dei risultati concreti ma comunque mi sto mantenendo su questa questione dei 10 minuti questo primo modo di organizzare il tempo ovviamente ti fa dedicare molto più tempo allo studio rispetto alla pausa cioè il momento in cui non studi ma questo alternare ci permette di ottimizzare le nostre risorse in un certo senso proprio risorse mentali cioè la nostra concentrazione sapere che possiamo dedicare tranquillamente 10 minuti ad una pausa in cui non studiamo facciamo altro, mangiamo, prendiamo lo smartphone, quello che vuoi ma comunque non è studio ci permette di concentrare i primi 20 minuti invece proprio sullo studio di qualità perché sappiamo che comunque la pausa prima o poi arriverà la prima mezz'ora quindi si è conclusa cosa dobbiamo fare a seguire? esattamente la stessa cosa altri 20 minuti di studio quindi concentrati al massimo a studiare e già completando ogni questi 20 minuti hai studiato per 40 minuti e anche in questo caso completiamo con altri 10 minuti di pausa e poi o concludi la tua sessione di studio quindi in sostanza hai concluso già 10 minuti prima oppure puoi ripetere nuovamente questo set di alternanza tra pause e studio un'altra volta per studiare un'altra ora anche perché in un'ora alla fine studierai in modo concentrato per 40 minuti e avrai 20 minuti di pausa ma il fatto che alterniamo ci permette di essere sempre freschi e sempre concentrati su ciò che studiamo non ha senso studiare per 40 minuti consecutivi e poi fare 20 minuti di pausa perché in quei 40 minuti prima o poi ci distrarremo e diminuirà la qualità nello studio quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi non studiare solo 10 minuti se proprio non hai alternativa usa delle strategie che seppur ti permettano di studiare non tanto non voglio dire poco ma comunque sono molto meglio di 10 minuti e questo è quello che ti ho proposto se hai dubbi, domande o qualunque altro motivo non ti farei problema scrivere nella sezione dei commenti o nei contatti che trovi in descrizione io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato per la tua attenzione e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani